capita spesso che i turisti mi chiedano di accompagnarli da Bergamo alla Val Seriana perché dopo la città alta vogliono spingersi ancora più in alto qui è dove sono cresciuto, frequento questi luoghi da quando sono piccolo cammino sugli stessi sentieri dove camminavo da bambino e mi tornano in mente quelle sensazioni che provavo e mi ricordo quanto mi piacesse stare qui e quando mostro questi luoghi alle altre persone vedo proprio anche nei loro occhi la stessa meraviglia io faccio anche il fotografo e mi piace osservare la natura quando cambia e susseguirsi dalle stagioni queste cose non le trovi da nessun'altra parte sono qui e basta mi chiamo Matteo e faccio l'accompagnatore di Media Montagna grazie a tutti